I mesi più freddi dell'anno si stanno avvicinando e il caro bollette previsto per questo periodo sta mettendo in seria difficoltà non solo ristoratori, albergatori e negozianti, ma anche il sistema scolastico. Ed è proprio sui provvedimenti da prendere sulle scuole di secondo grado che, di competenza della provincia, si è discusso questa mattina in consiglio provinciale convocato dal presidente Paolini. Aumenti spropositati per riscaldamento e luce che ha fatto rivedere i piani per le 20 scuole superiori del territorio. Si è discusso di settimana corta con il sabato in dad, temperature più basse, illuminazioni ridotte e sospensioni delle lezioni scolastiche pomeridiane. Una situazione preoccupante se l'aiuto economico da parte del governo continuerà ad essere insufficiente per tamponare un problema che sta riguardando l'intero paese. Preoccupati e curiosi dei provvedimenti che potrebbero essere presi dalla provincia, anche alcuni sindaci del territorio, come il primo cittadino di Monbaroccio Emanuele Petrucci. Ho partecipato in qualità di sindaco, anche se il consiglio era monotematico e rivolto ai consiglieri, perché ci tenevo a capire quale fosse la condizione a livello provinciale, quali interventi fossero stati fatti, quali interventi saranno programmati, perché sarà fondamentale intervenire in maniera drastica su un concetto che io ritengo dal punto di vista di una riforma provinciale a livello energetico, con eventualmente lo sviluppo anche di un piano regolatore dedicato a quelli che sono gli efficientamenti energetici. Noi a Monbaroccio abbiamo fortunatamente intrapreso un percorso quest'anno sulla scuola primaria e secondaria di primo grado, con una trasformazione di efficientamento energetico e sismico che ci permetterà notevolmente di contenere i costi presso un edificio che ci costa circa 30-35 mila euro all'anno di utenze e che sarà ridotto drasticamente intorno ai 10-15 mila. Per quanto riguarda l'altro edificio abbiamo il prossimo anno l'intervento complessivo con demolizione e ricostruzione, sarà un nuovo istituto completamente autosufficiente, ma che sarà anche una piccola comunità energetica che permetterà anche di alimentare l'illuminazione pubblica, quindi una scuola che diventa non solo autonoma, ma anche fornitore di energia sul mio territorio. Mi piacerebbe insomma la proposta che potrò fare, quella di fare un percorso congiunto su tutto il territorio, in modo tale da insegnare e istruire i ragazzi su quello che è il fabbisogno energetico e quello che è l'efficientamento energetico, quindi fare parsimonia su tutto un percorso interno di edifici scolastici e tirare la cinghia tutti insieme nell'ottica di un obiettivo, quello di contenere i costi, sperando che un domani questo paese abbia una svolta anche a livello di efficientamento energetico e di piano energetico sul nostro territorio provinciale e regionale.